Ciao a tutti, questo è un invito alla lettura del libro di Sigmund Bauman intitolato Homo Consumens, lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi. Presentazione. Il lettore che avrà l'occasione di imbattersi in questo libro scoprirà una volta di più che leggere Bauman è sempre un'esperienza stimolante. La sua dote più preziosa è quella di riuscire a penetrare la scorza del mondo sociale che ci appare nella sua naturale ovvietà per mostrarci significati che non vediamo non perché nascosti ma perché quotidiani ed evidenti e proprio per questo invisibili. Questa sua capacità di svelamento fa sì che Bauman, a differenza di tanti altri autori, possa unire al tempo stesso profondità a semplicità. Il suo linguaggio è piano tanto da dare l'impressione di allontanarsi dal rigore dell'analisi scientifica per andare nella direzione di una prosa più leggera e quindi più capace di raggiungere il lettore. Nonostante le critiche che non di rado serpeggiano nei suoi confronti negli ambienti accademici, Bauman svolge così fino in fondo il suo ruolo di sociologo che è insieme osservatore e attore sociale. I temi che tracciano i confini del libro sono essenzialmente due. Il primo è la critica al modello di vita sociale che si è andato affermando in Occidente negli ultimi due decenni. Bauman è tra coloro che sostengono che quella che lui chiama la modernità liquida è segnata dalla centralità dell'agire di consumo piuttosto che dall'agire di lavoro. Contrariamente a quello che sostengono molti teorici postmoderni però Bauman non legge questa evoluzione in termini positivi. Piuttosto egli invita a cercare di scoprire le contraddizioni di questo tempo che sono diverse da quelle dell'epoca industriale che è alle nostre spalle. L'uomo consumens è onnivoro e proprio questa sua insaziabilità lo condanna a un'inguaribile infelicità. Ma il problema, ci dice Bauman, è che questa trasformazione antropologica cambia anche la logica del sociale. Aggiornando la lettura che Simmel aveva fatto a proposito della vita urbana a Berlino nei primi del Novecento, Bauman sottolinea tutta una serie di trappole nelle quali l'uomo contemporaneo finisce per cadere. La perdita dell'idea di bene comune, la formazione di una nuova tipologia di poveri, la crescente instabilità di qualunque realtà sociale, l'esposizione emozionale delle società ipertecnologiche. In questo modo, Bauman si pone legittimamente come uno degli interpreti più autorevoli del nostro tempo. L'uomo sociologicus, nevrotico perché schiacciato dai suoi doveri e dai suoi ruoli, temi che potevano essere dedotti dall'analisi di Ralph Darendorf negli anni Sessanta, non c'è più. Al suo posto c'è l'uomo consumens, sempre a rischio di perdersi di fronte all'eccesso di stimoli a cui è di continuo il suo malgrado esposto. Il secondo tema che Bauman rilancia ancora una volta nel volume ha una natura per così dire ricostruttiva. Bauman è convinto che le scienze sociali non abbiano solo un compito analitico, ma siano investite anche del compito di individuare le piste sulle quali è possibile lavorare per ridurre i problemi della vita sociale. A questo riguardo è però necessario intendere bene la prospettiva che viene proposta. Bauman, infatti, è alieno da un approccio tecnicistico. Le scienze sociali non sono una tecnica che si affianca alle altre. L'orizzonte nel quale egli si muove non è quello dell'ingegneria sociale. Le scienze sociali hanno invece il compito di ricostruire il quadro dell'azione, di fornire agli attori le categorie di interpretazione della realtà affinché essi possano esercitare poi la loro responsabilità e la loro creatività. In questo senso Bauman crede fortemente nell'attore sociale nella sua libertà. Nessun interprete, nessun legislatore si possono sostituire all'attore sociale. Il contributo che Bauman ci offre a partire dalla sua critica è dunque quello di riproporre il tema dell'agire morale. In un'epoca frammentata e postmoderna, dice Bauman, abbiamo sotto i nostri occhi gli esiti infausti di un mondo che sembra perdere qualunque capacità di giudizio, ma di fronte ai grandi rischi che tutto ciò comporta non c'è altra strada che ricominciare, con pazienza, a insistere su quella che Bauman considera una qualità umana fondamentale, che è proprio il suo senso morale. La proposta di Bauman è qui assolutamente originale. L'atto morale non ha altro fondamento che se stesso. In questo senso è un atto libero, ab solutus. È a partire da questa libertà che è possibile rigenerare proprio ciò di cui sentiamo la mancanza, e cioè istituzioni e valori. Questo movimento, Bauman ne è ben consapevole, è sempre un rischio. Niente assicura il suo successo e neppure la sua esistenza. Eppure questa caratteristica originale dell'essere umano è ciò che sta alla base della sua socialità e in ultima istanza della sua sopravvivenza come specie. E non a caso, dice Bauman, la vita sociale contemporanea si trova oggi a misurarsi con il rischio della sua autodistruzione. Di fronte a tali rischi, solo una domanda radicale sul senso morale dell'agire umano può essere capace di invertire la tendenza e generare una nuova socialità. Il riconoscimento di tale prospettiva, dice Bauman, non è di per sé risolutivo. Si tratta semplicemente di una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter riprodurre la vita umana. Ma è solo da qui che si può sperare di rigenerare un sistema di valori in grado appunto di essere quello che pretende di essere. Cioè un sistema di riferimenti in grado di discriminare ciò che vale da ciò che non vale. Così come un apparato istituzionale, cioè reti di relazioni interumane stabilizzate e come tali rette da norme coerenti con il tempo che stiamo vivendo. In questa prospettiva mi sembrano apprezzabili le pur brevi riflessioni che Bauman propone sul lavoro sociale e sulla sua trasformazione contemporanea. Quest'area della vita sociale è molto preziosa perché è mediante un tale canale che si genera nella vita sociale il senso della responsabilità reciproca e del prendersi cura soprattutto dei più deboli. Criticando lo spirito del tempo, Bauman insiste nel considerare una simile attività tutt'altro che secondaria. Al contrario essa è essenziale per tenere insieme un tessuto sociale che le dinamiche contemporanee sfilacciano sempre di più. La riflessione su questo tema suggerita da Bauman è in linea con tutto il suo pensiero. Il lavoro sociale non coincide con un semplice sapere tecnico. La sua caratteristica è sì quella di generare tecniche e interventi specialistici, ma tenendo sempre aperta al tempo stesso la frontiera verso il basso, verso appunto il dovere umano del prendersi cura dell'altro. Quando il lavoro sociale non si ricorda di questa sua origine snatura se stesso e finisce per impoverire le ragioni forti che possono e debbono sostenerlo. Di fronte all'affermarsi dell'uomo consumens, smemorato e gaudente, le ragioni del lavoro sociale non possono risiedere solo nella sua efficienza tecnica. Il suo futuro e quello della società nel suo insieme stanno invece nella sua capacità di tenere aperta un'istanza, traducendola poi in capacità di azione e organizzazione. Capitolo primo, mode volatili, l'irresistibile impulso a consumare e trasformarsi. In un aeroplano in viaggio verso Londra la rivista della compagnia aerea presenta un articolo di moda sugli orologi da uomo. Ben più che un fatto di moda, vi si legge. L'orologio è un investimento importante che la dice lunga su chi siate, su che cosa siate e su quali siano i vostri gusti. Fine della citazione. Che sciocchezza mi dico. Com'è possibile che un oggettino meccanico che ci teniamo attaccato al polso, che serve solo per misurare il tempo che passa, abbia qualche cosa da dire sulla nostra personalità? Ma poi do un'occhiata al mio Oris. Quello che dice, a pensarci bene, è che sono una persona elegante ma sobria, affidabile ma non troppo vistosa. Loris per me è un po' come l'Audi degli orologi. Segnala che il proprietario è benestante e di buon gusto, ma non eccede in stravaganze. Mi fa sentire particolare, diverso dagli altri, ma non troppo. Non voglio essere bizzarro. Voglio essere come gli altri, ma in modo tale da sentirmi a capo del gregge. Gli autori di quella pubblicità mi conoscono bene. Quell'orologio fa esattamente quello che promette la pubblicità. La dice lunga su chi sono io. Il supplemento di una prestigiosa rivista di moda pubblicato verso la fine del 2005 proponeva una mezza dozzina di look essenziali per i prossimi mesi che vi faranno anticipare le mode del branco. Era una promessa meditata con cura allo scopo di attirare la massima attenzione del lettore. In poche righe, con uno stile conciso ed efficace, quel messaggio affrontava tutte o quasi le preoccupazioni, le ansie e le esigenze alimentate dalla società dei consumatori e nate da una vita che verte tutta intorno ai consumi. Tanto per cominciare, la preoccupazione di essere e di restare in anticipo rispetto alle mode del branco, cioè del proprio gruppo di riferimento, degli altri significativi, degli altri che contano, coloro dalla cui approvazione o dal cui rifiuto dipende il successo o il fallimento. Per dirla con Michael Maffesoli, io sono colui che sono perché gli altri mi riconoscono come tale, mentre la vita sociale reale non è che un'espressione di sensi di appartenenza che si succedono l'uno all'altro. Per chi non riesce in un modo o nell'altro a ottenere il riconoscimento degli altri, l'ammenda, ovvero l'unica alternativa, è una sequela di rifiuti o comunque di esclusioni. Occorre ricordare però che in una società di consumatori, in cui i legami umani passano generalmente per il mercato dei beni di consumo, il senso di appartenenza non si ottiene eseguendo le procedure stabilite e sanzionate dalle mode del branco a cui uno aspira, bensì tramite l'identificazione dell'aspirante, per metonimia, con il branco stesso. Il processo di auto-identificazione dipende nel suo svolgimento e nei risultati che esibisce da segnali di appartenenza ben visibili che di solito si ottengono nei negozi. Nelle tribù post-moderne, come Maffesoli preferisce ribattezzare le mode del branco della società del consumo, le figure emblematiche e i loro segnali di identificazione, gli indizi evocati dal modo di vestire e o dai codici di condotta, rimpiazzano i totem delle tribù originarie. Essere in anticipo, nell'ostentare i segni delle figure emblematiche, delle mode del branco, è l'unica ricetta sicura per convincersi del fatto che il branco prescelto ci riconoscerebbe e ci accetterebbe senz'altro, se fosse al corrente della nostra esistenza. Rimanere in anticipo, d'altro canto, è l'unico modo per essere sicuri che il proprio desiderio di appartenere duri per tutto il tempo desiderato, ossia per convertire un permesso di ingresso provvisorio in un permesso di soggiorno a tempo determinato ma rinnovabile. Dopotutto l'idea di anticipare gli altri porta con sé una chance di sicurezza, di certezza, di certezza di essere sicuri. Proprio quel tipo di esperienza di cui la vita di oggi ci priva in modo tanto evidente e sofferto, nonostante il nostro desiderio di acquisirla. L'idea di anticipare le mode del branco rispecchia la promessa di un grande apprezzamento e di una domanda diffusa da parte del mercato. Questo si traduce nella certezza del riconoscimento, dell'approvazione e dell'inclusione. O forse in un'offerta all'asta che di fatto si riduce a una sfilata di emblemi. Dall'acquisto degli emblemi, al pubblico annuncio della loro titolarità, sino che il loro possesso non è un dato di pubblico dominio, e si traduce a sua volta in un senso di appartenenza. L'idea di continuare ad anticipare il branco rappresenta invece una saggia precauzione, onde non dimenticarci che prima o poi gli emblemi di appartenenza, con cui oggi ci identifichiamo, andranno fuori mercato, per essere rimpiazzati da altri emblemi più nuovi. Si previene così il rischio di perdersi per strada, che poi si tradurrebbe, nel caso delle offerte di appartenenza mediate dal mercato, in un senso di rifiuto, di esclusione, di abbandono e di solitudine, e in ultima istanza in un penoso senso di inadeguatezza personale. Mary Douglas, la cui celebre teoria ha smascherato i significati nascosti degli atteggiamenti dei consumatori, ha suggerito che la teoria dei bisogni dovrebbe muovere dall'assunto che qualsiasi individuo abbia bisogno di certi beni per motivare altre persone ad aderire ai suoi progetti. I beni servono proprio per mobilitare gli altri, fine della citazione, o almeno per darci la gradevole sensazione che sia stato fatto tutto ciò che andava fatto per ottenere questa mobilitazione. In secondo luogo, il messaggio che ci arriva ha sempre una data di scadenza. Attenti lettori, varrà per i prossimi mesi, e non di più. È un aspetto che si accorda bene con la visione del tempo e del divisionismo, fatta di istanti, di episodi di durata determinata e di nuovi inizi. È un aspetto che libera il presente, che andrebbe esplorato e sfruttato appieno, dalle distrazioni del passato e del futuro, che avrebbero impedito e rovinato l'euforia della libera scelta. Ne deriva un duplice risvolto positivo. Si è al contempo aggiornati e al riparo dal rischio di rimanere indietro in futuro, almeno per quanto riguarda il futuro prevedibile, se esiste una cosa del genere. I consumatori più esperti avranno senz'altro modo di cogliere il messaggio che li spingerà ad affrettarsi, rammentando loro che non c'è tempo da perdere. Questo messaggio implica anche un assunto che è ancora più rilevante. Per quanto si possa guadagnare, rispondendo solertemente al richiamo, non durerà per sempre. Quale che sia la garanzia che si acquista, sarà comunque necessario rinnovarla una volta trascorsi i prossimi mesi. È pur sempre e solo un intervallo. In un romanzo che reca come titolo appropriato Elogio della lentezza, Milan Kundera rivela l'intimo legame che esiste fra velocità e oblio. Il grado di velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio. Fine della citazione. Perché mai? Perché, se per accedere alle luci della ribalta è necessario lasciare in disparte le altre persone, per accedere a quella ribalta di peculiare importanza, nota come attenzione dell'opinione pubblica, o meglio come attenzione di una platea destinata a essere riciclata in forma di consumatori, è necessario estrometterne gli altri oggetti d'attenzione. Gli altri personaggi, le altre trame, ivi compresa la trama che era appena andata in scena il giorno prima. La ribalta, ci rammenta Kundera, è illuminata solamente nel corso dei primi minuti. Nel mondo liquido moderno la lentezza è il presagio della morte sociale. Come osserva Vincent de Guéliac, giacché tutti progrediscono, chi rimane fermo sarà inevitabilmente separato dagli altri per effetto di una distanza sempre più incolmabile. Il concetto di esclusione suggerisce l'idea, infondata, dello spostamento di un oggetto dalla posizione originaria che occupava. In realtà è la stagnazione che esclude. In terzo luogo, giacché l'offerta di quella guida della moda non comprende un look soltanto, ma una mezza dozzina di look diversi, si è veramente liberi. Anche se, va aggiunta una nota cautelativa, l'insieme delle offerte disponibili traccia un limite ben preciso oltre il quale la scelta non può andare. Si può scegliere il look che si predilige, ma la scelta in quanto tale, la scelta di un determinato look, non è in discussione, dato che è esattamente ciò che si deve fare e che non si può in alcun modo evitare di fare se non si vuole rischiare l'esclusione. Ne tantomeno si è liberi di influire sull'insieme delle scelte disponibili, dato che non esistono opzioni realistiche in alternativa a quelle che sono già state preselezionate, prestabilite e prescritte. Tutte queste sfumature, però, non hanno poi grande importanza. Che si tratti del poco tempo a disposizione, dell'esigenza di ingraziarsi i favori del branco, qualora i suoi componenti, rivolgendoci lo sguardo, osservino i nostri indumenti e il nostro contegno prendendo un esempio, o del ristrettissimo numero di scelte a nostra disposizione, non più di mezza dozzina. Quello che importa veramente è che la responsabilità delle scelte è tutta nostra, e non potrebbe essere altrimenti. È possibile scegliere delle opzioni diverse, ma non è possibile fare a meno di scegliere. Ellen Seiter osserva che, dai vestiti alla mobilia, dai dischi ai giocattoli, tutte le cose che compriamo ci richiedono di prendere delle decisioni e di usare i nostri gusti e la nostra capacità di giudizio. Come aggiunge la stessa autrice, però, va da sé che non esercitiamo alcun controllo ex ante sull'insieme delle cose fra cui possiamo scegliere. Rimane il fatto che scelta e libertà nella cultura del consumatore sono praticamente sinonimi, e che è corretto trattarle come tali, quantomeno nel senso che si può fare a meno di scegliere soltanto nella misura in cui si rinuncia alla propria libertà. L'avvento della libertà è visto sempre come un esaltante atto di emancipazione, che sia da doveri insopportabili e da irritanti proibizioni o da abitudini ottuse e monotone. Ma non appena la libertà diventa una cosa abituale e si trasforma nel pane quotidiano, subentra un nuovo orrore, in nulla inferiore a quello di cui ci si era appena liberati, e che fa addirittura impallidire i ricordi delle sofferenze e delle lamentere del passato, l'orrore della responsabilità. Le notti che seguono le giornate di routine obbligatorie sono piene di sogni di libertà dagli obblighi del passato. Le notti che seguono le giornate di scelte obbligatorie sono piene di sogni di liberazione dalla responsabilità. Molto bene questo è tutto, spero che questo estratto vi sia piaciuto, fatemi sapere se leggerete il libro. Alla prossima!